buongiorno è arrivato il gatto allora buongiorno ragazzi quindi oggi iniziamo a fare queste lezioni un po così online vediamo cosa esce fuori in gioco forza perché le lezioni a scuola come sapete sono interrotte per motivi sanitari oggi volevo parlare con voi di picasso e fare un'esercitazione lanciare un'esercitazione alla fine dell'incontro in cui appunto dovrete realizzare un lavoro alla maniera di picasso un po come abbiamo fatto con eduardo munoz bax il cubano oppure come abbiamo fatto con fortunato de pero il l'artista futurista non vi spaventate adesso vi faccio vedere un po di cose che si trovano anche su internet a proposito di picasso picasso tra l'altro diceva ci ho messo una vita per imparare a disegnare come un bambino e quindi un po dovreste essere già in grado di disegnare alla maniera di picasso però volevo un po parlarvi di questo picasso e allora intanto vi dico che su internet su pinterest ho creato una cartella che dovreste riuscire poi a vedere una cartella pablo picasso dove trovate alcune delle opere di pablo picasso ma picasso in realtà nasce nel 1881 muore mi sembra nel 69 nel 70 lavora per un'ottantina d'anni producendo continuamente opere d'arte e la prima opera d'arte di picasso la fa quando aveva otto anni è veramente un'opera d'arte nel senso che è un'opera che ha già una ricerca una riflessione che sono non sono quelle di un bambino di otto anni papà di picasso insegnava all'accademia di belle arti a malaga e quindi picasso cresce già con i pennelli e con le matite in mano tant'è che fa la prima mostra giovanissimo mi sembra a 14 15 anni e subito dopo il padre va in pensione perché dice abbandona la scuola perché si rende conto che che forse è meglio lasciare spazio al figlio e che 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 tempo appunto di rimandare avanti il piccolo pablo che si chiama picasso perché picasso un cognome genovese e perché la mamma la mamma di picasso era di origine genovese infatti ancora adesso ci sono tantissimi picasso in giro per genova perché lui piaceva soprattutto il suono di questa doppia s che in spagnolo peraltro non esiste picasso è un'artista tutto tondo che produce tantissime cose con tantissimi stili diverse una cosa che si si trova poco negli artisti di oggi che tendono a una volta avuto successo a ripetersi sempre perché il marketing chiede quello quindi se tu sei famoso perché fai gli omini col becco nel momento in cui hai successo tendi a ripeterti come artista perché vieni chiamato tra l'altro proprio per rifare gli omini col becco e invece picasso no picasso si mette sempre in gioco lavora appunto tantissimo lavora per quasi 80 anni ma non si ripete mai attraversa varie vari periodi di ricerca stilistica per cui sappiamo che c'è il periodo blu c'è il periodo rosa c'è il periodo romano faccio lezione con i gatti quindi sappiate che ogni tanto appunto saltano fuori questi gatti che mi agolano non ci fate troppo caso e quindi appunto tra l'altro picasso era anche diciamo un po un po un bulletto e un po un narciso per cui molto spesso si molto spesso si fa fotografare si fotografa e anche ecco anche viene fotografato anche dei fotografi molto importanti quindi visto che fate anche fotografia ci sono delle foto di picasso realizzate da eric arti e bresson da douano per esempio questa questa foto di questo ritratto di picasso realizzato da douano è abbastanza famoso le pens di picasso i panini di picasso perché picasso era anche con una persona con una grande ironia per cui si metteva sempre in gioco qua per esempio si fa fotografare con dei panini giganti al posto delle dita era un po un mattacchione no è famoso il fatto la storia che la prima mostra importante veramente importante che fa picasso che erano la mostra d'inverno a parigi dove andavano tutti gli autori più famosi picasso all'inaugurazione non c'è dove dove non è era in giro per donnine nei vicoli di pigalle insomma famosa anche per perché grande amante delle delle donne picasso anche se pare che insomma non le trattasse sempre particolarmente bene bisogna dire che appunto essendo vissuto così tanto ed avendo avuto successo quasi da subito picasso come artista non è uno di quegli artisti sfortunati che vendono soltanto da morto picasso è diventato ricco subito e famosissimo c'era proprio un artista da prime pagine vive moltissimo in costa azzurra quindi qua vicino anche perché in francia c'era franco c'era il fascismo di franco e quindi che è durato molto più a lungo di quello italiano e quindi fin da subito picasso decide di lasciare la sua terra natia e andare a lavorare all'estero le sue posizioni politiche erano fortemente connotate anche dichiarate per cui per esempio quando incontra marinetti sembra che non abbia voluto neanche stringergli la mano ricordandogli appunto guardi che signor marinetti siamo in guerra per dire io e lei non abbiamo niente a che fare ecco va bene ci sono tantissime cose da dire su picasso però limitiamoci a una cosa cerchiamo di capire perché picasso è proprio una persona un artista che è l'artista di svolta no e quindi la domanda perché è famoso questo picasso ma che robe sono queste opere di picasso perché studiamo picasso picasso lo studiamo perché picasso è segna proprio un momento di rivoluzione per la storia dell'arte c'è tra 400 anni non forse non si ricorderanno di andy warhol ma di picasso sì perché proprio una cesura netta un taglio netto con il col passato nel 1907 quando picasso dipingere damoiselle d'avignon è proprio il momento in cui è proprio siamo nel periodo in cui ci si sta avendo una grossa rivoluzione in tutti i campi del pensiero in europa e poi nel mondo c'è il nasce la psicanalisi in quel periodo quindi si scopre che oltre alla realtà che vediamo c'è anche un subconscio una realtà quindi interiore di cui gioviamo in qualche modo nel bene nel male c'è einstein però che proprio in quegli anni lì dice e assumendolo anche un po' superficialmente che tutto è relativo la relatività di einstein per cui non c'è più una verità assoluta e questo segna e questo poi viene recepito in tutte le arti perché in architettura allora si smette di adoperare la prospettiva e la simmetria soprattutto perché la simmetria è qualcosa che il fatto che un tempio greco lo potessi vedere solo dal davanti che avesse una visione principale un fronte principale un prospetto principale simmetrico a parte sinistra uguale a quella destra è qualcosa di molto poco che lascia molto poco spazio alla libertà personale no tu in qualche modo guardi l'opera pensi di essere libero guardandola però l'opera in realtà ti obbliga un sacco ti dice tu mi devi guardare di qua e io sono simmetrica la parte sinistra uguale a quella destra invece dal con l'avvento con le teorie di einstein con la relatività nasce anche la bauhaus cioè nasce un modo di fare arte e architettura dove l'uomo che si sposta intorno al dentro l'architettura dove non c'è una vista preferenziale del è un prospetto preferenziale dal quale guardare e osservare l'architettura ma l'architettura la si vive la si conquista nel momento in cui la si attraversa ci si passa attraverso e questo vale anche in pittura dove il cubismo di cui picasso e brax sono considerati i padri dice basta non guardiamo una cosa da un lato solo ma la guardiamo da cinque o sei lati contemporaneamente ci giriamo attorno la scomponiamo e la ricomponiamo e sì però questa questo modo di fare non è realista io preferivo raffaello dicono molti ancora oggi in realtà picasso è stato rivoluzionario perché ha detto ma l'arte compito dell'arte non è quello di essere verosimile cioè di fare i ritratti più iper realisti possibili per quello c'è la fotografia l'arte ha un compito diverso ha un altro compito vabbè ve lo vedete fin troppe vediamo invece come ecco io su questa cartella di di pinterest ho messo un po di ritratti un po dei ritratti fatti da da picasso perché adesso noi andremo proprio a realizzare un ritratto anzi un autoritratto alla picasso quindi adesso rimetto scusate ma sto è la prima volta che provo questo marchi ingegno tecnologico giro la mia telecamerina la sposto anche di qua inquadro vediamo se sono nella direzione giusta no sono in quella sbagliata in quadro anzi sono al contrario completamente quindi cosa devo fare non lo so adesso ci arrivo scusate se lei si girasse per così sarei salvo ma non si gira per così devo girare tutto qua spero di non coprire troppo il disegno perché sono mancino ma allora considerate che la caratteristica principale di picasso dell'arte di picasso e soprattutto la sintesi picasso è molto molto grafico e per quello che ci piace per quello che lo studiamo qua a grafica vediamo questa questa famosa evoluzione del toro di picasso che diventa via via sempre sempre più sintetico sempre più stilizzato vedete alla fine sono proprio pochi segni rimangono soprattutto le corna e tra l'altro una delle famose opere di picasso è anche la scultura fatta con un sellino picasso non mi ricordo come si chiama l'opera quindi andiamo a cercarla così eccola la testa di toro questa è una testa di toro stilizzato un'opera famosa di picasso è anche un ready made lo studierete forse in storia dell'arte c'è un una scultura realizzata assemblando pezzi di oggetti esistenti questo è il massimo della stilizzazione cioè alla fine un toro per picasso sono due corna cioè l'attorità sono le corna quindi c'è un tutto un percorso tutto un processo di sintesi in picasso che che molto ci interessa i ritratti lui ad opera appunto vive molto a lungo picasso mi sembra che muoia 91 anni e quindi cambia diversi stili sceglietevi voi l'immagine che più è il ritratto che vi più vi aggrada e copiatene in qualche modo lo stile io per esempio potrei un po' appassionarmi a questa a questo ritratto di donna e provo a farmi il mio autoritratto senza avere niente davanti intanto so che più o meno se devo proprio stilizzarmi io sarò non so se si vede ecco lo che faccio mi metto gli occhiali e provo a mettere a fuoco ok quindi io cosa sono io allora gli occhi alla picasso sono fatti più o meno così fa come delle mandorle il naso alla picasso è quasi un rettangolino niente di più in questo momento ho dei baffi bello di picasso è che essendo molto stilizzato potete andare anche un po' storti diciamo senza problemi mi insegno un po' di zigomi faccio l'altro occhio faccio un po' storto vedrete che picasso non fa mai niente di perfettamente simmetrico neanche un viso neanche un viso lo deve essere se vogliamo fare un ritratto alla picasso lo faremo un po' più o meno così c'è una cosa che sicuramente ho sbagliato e che adesso vi dico la cosa che ho sbagliato come vi ho già detto diverse volte è importante azzeccare fin da subito per fare un disegno alla maniera di la tecnica io sto usando una penna gel di muji però secondo me picasso adoperava sempre dei dei pennelli e quindi il pennello ha un segno molto più morbido perché cambia di spessore e quindi forse ho fatto le cose un po' troppo lente dovevo andare più veloce in questa sono rimasto un po' troppo statico e quindi è un po' legnoso il segno in questo mio autoritratto è un po' troppo anche dritto dovevo farlo un po' più storto vabbè non ho fatto la matita voi invece fatela perché vorrei è importante che questo ritratto stia bene nella pagina ho un gatto che miagola qua altra cosa di di picasso che è molto spesso sproporzionato è un po' caricaturale nelle nelle nei disegni nei tratti eccolo qua eccolo qua aspettate che vorrei ecco andare un po' a vedermi di nuovo un ritratto di picasso c'è quello un ritratto famoso è quello di l'ora mar il cavolo mi sembra che sia l'ora mar picasso no è sbagliato forse no ecco doramar non l'ora scusate è sbagliato mi piaceva volevo vederlo per l'ambientazione dietro eh quindi questa specie di sembra quasi una finestra una cabina dietro ok sono mancino quindi non ci sta la mano ok andiamo un po' di nuovo a rivedere com'era ok facciamo questa sedia ok Sono stato un po' legnoso, sono stato un po' poco fresco, dovevo andare più veloce. L'altra cosa che non va bene nel disegno che ho fatto è il segno, perché ho usato appunto questa penna, come vi dicevo, che non è morbida come un pennello. Quindi adesso prendo un brush pen, che è fondamentalmente un pennello con la cartuccia. E ripasso un attimo in modo da rendere un po' più deciso e un po' più anche morbido il segno. E magari anche un po' più sporco, visto che sono stato veramente un po' troppo rigido. Bisogna essere un po' più coraggiosi, un po' più veloci e un po' più freschi quando si disegna. Quando avrò finito di fare il bianco e nero, io che ho uno scanner, adesso scansiono e provo a colorare. Voi magari non avete a casa lo scanner, quindi per questa esercitazione basterà che ci mandiate anche solo una foto fatta col telefonino del bianco e nero. Ok, questo qua è l'autoritratto di Sergio Livotti alla maniera di Povolo Picasso. Picasso adoperava spesso un po' di tratteggio, quello posso anche... dei tratteggi strani, no? Vediamo... andiamo un po' a vederli. Ma sì, dei pattern, diciamo. Posso farlo, posso fare quantomeno... Mi faccio un maglione un po' a quadri perché se no rimane un po' troppo spoglio questo disegno. Naturalmente questi quadri saranno tutti un po' storti, eh? C'è l'arte dello stortismo, eh, fa parte del cubismo in qualche modo. Eccolo lì. Poi vediamo anche l'autoritratto del professor Raso, eh, alla maniera di... di... Vediamo se ce ne fa uno, Alex. Ecco. Questo qua è l'autoritratto di Sergio Livotti. Ora, lo scansiono e... E in diretta vorrei provare anche a colorarlo, eh, con voi. Poi vi darò i link, invece, alle... I link a... appunto questo ce l'avete già alla mia... Alla baccheica che vi ho fatto su Pinterest, che è la baccheica proprio di Pablo Picasso, che è questa. Eh, trovate alcuni quadri, trovate anche appunto, come vi dicevo, alcune foto, tipo famoso Picasso per queste foto fatte con la luce, eh, realizzate dal suo amico fotografo Mili. In realtà l'autore, quale sia l'autore di queste foto non si sa, perché in realtà voi sapete che fotografia vuol dire scrittura con la luce, e in questo caso sia il fotografo Mili scrive con la luce, sia Picasso, perché sono disegni realizzati con una lampadina per aria. Quindi sono un po' una... una cosa strana questi... questi famosi disegni di... di... per aria con la lampadina di Picasso. Ok, mi salvo il ritratto di cui voglio usare un po' le cromie sul... sul... sul desktop. Direi che mi piacerebbe questo qua di Dora Mare, ma qua abbiamo soltanto un... un dettaglio, quindi cerco... Dora... Mar... Picasso... Eccolo qua... Tac... Lo salvo... sul desktop, eh... ok... Lo salvo sul desktop e adesso metto nello scanner il... il mio... disegnetto. Un attimo solo... E intanto che scansiono vi faccio vedere anche un'altra cosa. Su Youtube trovate anche degli estratti da questo documentario, il mistero Picasso, che è un documentario del 55, dove si... dove si possono... dove si può vedere... dove si può vedere... Picasso al lavoro. E' una cosa abbastanza... particolare, abbastanza rara e interessante. E continuare a fare un'altra, da un'altra forma, più importante, abbastanza... Ma questo è già molto bene, è già una dimostrazione molto impressionante, penso. Ma questo è un po' extensore ancora. Il dovrebbe andare al fondo dell'Historia. Il dovrebbe rischio tutto. Il dovrebbe vedere gli tavoli, gli altri, come si fanno... C'est-à dire che ti vuoi mostrare tutti gli tavoli che sono sotto un tavolo? Qui sono sotto un tavolo. Non puoi fare la trasparenza? Non, ma potremmo fare la peintura all'huile, come ho fatto in un atelier tutti i giorni. C'est-à dire che ti vuoi cominciare con la trasparenza e poi ci vuoi provare... Sì, sì, sì. Vedete qua poi si vede proprio... In questo documentario si vede proprio Picasso che ti disegna. Interessante perché si vede anche le incertezze, le correzioni di Picasso. Va bene. Ok, apro Photoshop, mi porto dentro il mio disegno e vediamo di fare un autoritratto, anzi, alla maniera di Picasso. Eccolo qua. Lo faccio più o meno così, lo metto bello al centro. E adesso, così vi faccio anche vedere un po' un ripassino di Photoshop su come realizzare questo disegno. Ho un livello solo, sono in modalità RGB. Clicco due volte, così faccio sparire il lucchetto dal primo livello. Posso già inserirmi il disegno che mi servirà come riferimento cromatico, diciamo, per rubare, tra virgolette, i colori. E infatti faccio proprio così, vado sul contagocce, clicco sul giallo, mi compare col giallo, e creo un livello tinta unita, proprio con quel giallo lì. In questo momento è qua sopra e mi nasconde tutto. Io clicco qua. CTRL-I Vabbè, lo potete anche fare da qui, regolazione, inverti, CTRL-I e diventa tutto nero. Lo tiro qua sotto. Questo livello qua, invece, metto moltiplica. Se adesso comincio a disegnare col bianco, qua sotto, su questo livello dovrebbe cominciare a vedersi... Ecco, questo giallo. Adesso lo voglio fare un po' più. Faccio proprio... Non sono proprio nello stile perfetto alla Picasso perché in realtà lui ad opera il pennello e ha delle... delle nuance, delle sfumature varie. Io sono un po', sto lavorando a tinte piatte per il momento, eh. Poi vedremo di sporcare un po' queste tinte. queste tinte. Comunque, qua c'è del... del... del giallo. eh, lo metto un po' così. Lo metto anche un po' sulle mani. Ok. Poi copio un altro col... prendo un altro colore della pelle che potrebbe essere questo. in realtà dovrei farne tanti colori e più ne faccio e più mi avvicino al... al... alla paletta di colori di Picasso. Ma, insomma, faccio un po'. Vediamo cosa esce fuori. Non l'ho mai fatta questa cosa. Qua ci metto un... l'ombra la faccio... di questo colore qui. Anche qui. Ecco che la pelle l'ho quasi coperta. Mi ci... mi sembra ci fosse anche... una specie di... di verde. Un certo verde. Nelle... nelle cromie. Eh... vediamo. Sì, c'è un po' di verde. Che tra l'altro è il colore che di solito veniva dato sul... sul fondo delle tele anche da Rembrandt, per esempio. quindi... tinta unita. Lascio col verde. Inverto... la maschera, quindi deve essere tutta nera e poi io ci disegno col bianco e quando disegno col bianco... ecco che salta fuori il colore. Oh! Non sta venendo così male, eh, questo... Olivotti... alla... Olivotti... alla maniera di Picasso. Qua ci metto un po' di verde qua. anche qua. Forse nella zona luminosa che... Ah, cavolo! Mi sono dimenticato il collo. Vabbè, fa niente. Allora ci metto qua. Vado su questo livello. E metto un po'... di giallo. Poi vado qua e metto un po' di rosa. un po' di rosa. Ok, ci siamo. E' l'ultimo. Oh! E' venuto quasi bene. Andiamo di nuovo a copiare, a vedere i colori. eh... Boh... Il maglione glielo faccio di questi due colori qua. Viola e rosso. Quindi... Tinta unita. Il colore lo prendo di qua. E poi... Tinta unita. Il colore lo prendo di... Qua. Ho due livelli. Ricordatevi. Faccio... Nero. CTRL-I. CTRL-I. E... Ok. Quindi, se non sbaglio... Il fondo era rosso e poi ci sono delle righe. Il fondo era viola. Cioè la maggior... Si, il fondo è viola. E poi... Rosso è... Sono le righe. Facciamo così, quindi. Che... Mi faccio i bordi della maglia. E dai, non è male questa cosa che... Vi faccio vedere in diretta quello che faccio. A scuola non è... Non avevamo tanto... Occasione di farlo. Eh... Ho fatto il perimetro chiuso. Eh... No, ho sbagliato. Sì, no, posso farlo. Ok. Perché questa qua lo tiro giù come livello. E qui ci butto dentro. Eh... Se... Un attimo. Mi sto incasinando. Allora, se schiaccio alt e clicco qua... Vedo... Che ho fatto tutto il bordo della maschera. E adesso io ci butto dentro col secchio. Vedete che devo darci un po' di colpi. Ecco qua. Ho fatto la mia maglia. Forse potevo farla leggermente. Eh... Mi allontano un po' dalla... Dalla palette... Di Picasso. Allora, le righe invece dovrebbero essere rosse. Come faccio? Ecco... Mmm... Mmm... Ma... Proviamo a farle così. Ma sì, faccio così, va. E basta. Tiro qua il disegno. Ecco lì. Eh... Quindi faccio così, tac tac, cosa è venuto e poi tinta unita, metto il nero e farò i pantaloni. Ora io interromperei un attimo questa registrazione perché vorrei essere sicuro che riesco a salvarla, che la sto registrando veramente, se no veramente ho fatto tutto un lavoro fin qua inutile. Dopodiché proseguiamo e finiamo questo autoritratto, salvo un attimo, desktop, Picasso, quindi ci sentiamo a questo punto tra poco.